Le anticipazioni del segreto in onda ad ottobre su Canale 5, svelano che donna Francesca farà una proposta particolare a Nazaria. Le anticipazioni delle nuove puntate del segreto, in onda in autunno su Canale 5, svelano che il matrimonio tra Fuglietta e Prudencio entrerà in crisi già dai primi giorni. La ragazza, infatti, non riuscirà a concedersi al marito in quanto ancora troppo innamorata di Sola. Prudencio, intanto, sfogherà la sua frustrazione contro Sanson per poi successivamente violentare la nuova, sebbene in vano. Donna Francesca, a questo punto, architetterà un piano per soddisfare i bisogni carnali del suo pupillo. Il segreto anticipazioni, Fuglietta rifiuta di fare l'amore con Prudencio. Fuglietta eviterà di consumare la prima notte di nozze con Prudencio in quanto ancora innamorata di solo Ortega. Una mancata intimità con Gale che creerà gravi problemi all'interno della coppia. Le anticipazioni svelano che Prudencio ucciderà perfino un cagnolino, regalato da Consuelo alla nipote. Successivamente il minore degli Ortega concederà più tempo a Fuglietta a patto che non lo mette in imbarazzo davanti a Sola. Da questo momento Prudencio diventerà un marito esemplare mentre la ragazza ascolterà i consigli di Nazaria. La ragazza, a questo punto, comincerà a comportarsi come sposa devota, trascorrendo perfino interi pomeriggi in compagnia della Montemegro. Infine la situazione si ribalterà quando Prudencio resterà affascinato dalla moglie vestita con un abito da cerimone. Il segreto, la spiazzante proposta di donna Francesca Nazaria. Le trame delle nuove puntate del segreto, in onda ad ottobre su Canale 5, rivelano che Prudencio tenterà di consumare il sacramento con la forza. La moglie, a questo punto, lo allontanerà con un colpo ben assestato nel basso ventre per poi fuggire nel bosco. Qui la giovane penserà addirittura di trasferirsi da nonna Consuelo, se Nazaria non la indicasse a non commettere azioni imprudenti, in grado di far arrabbiare ancora di più il marito. Donna Francesca, nel frattempo, spingerà il suo pupillo ad essere più intransigente, dopo aver scoperto che le nozze non sono ancora state consumate. La Montenegro, infatti, temerà che Julieta chieda l'annullamento delle nozze alla sapra rota, facendo passare il suo pupillo come zinbello. Proprio quest'ultimo, dichiarerà di avere la situazione sotto controllo, se la matrona non decidesse di fare di testa sua. Infatti chiederà a Nazaria di sedurre Prudencio per garantirgli una valvola di spoglio, visto il suo lavoro precedente nel lupanare. Dall'altro canto, la moglie di Maurizio cercherà di sottrarsi per non tradire Maurizio. Ma ecco che la Montenegro minaccerà la serva di raccontare a tutti il suo scomodo passato. Infine Nazaria non avrà altra scelta che accettare il lavoro richiesto da donna Francesca, solo per paura di non poter più sfamare suo figlio Miguel. Grazie a tutti.